Ehi Fere Dimmi che vuoi quest'oggi Ti posso insegnare una cosa? Dai, sì, va bene, dai, dimmi, dimmi Oggi ti insegno a creare un cobblestone generator automatico Uh, bellissimo, poi soprattutto molto molto utile nelle nostre scheria Esattamente Quindi dai, come si fa? Dai, tu lo saprei già fare, sei esperto, no? Allora, devi salire qui sopra, prendere il piccone e inizia a minare Ok E poi? In questo momento io non sto minando, eppure sto ricevendo dei materiali, quindi è un cobblestone generator automatico Sei serio? Sì Sei serio? Sì, Fere Non ti piace? Ehi ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Stefano, che si chiama Minecraft E siamo tornati nel nostro Sky Reams Ci siamo presi un pochino di tempo per migliorare, completare diverse quest Ingrandire le nostre isolette, perché abbiamo fatto delle farm incredibile E siamo prontissimi a farvi vedere tutto Esattamente, scusate per l'attesa, ma ci tenevamo a sistemare un pochettino tutto perché era un caos incredibile Quindi ci siamo presi qualche giornetto per sistemare Allora, vi faccio vedere prima la mia isola, dopo vedrete quella di Fere Niki Allora, se arriva con questa stradina super carina con foglie e fiorellini, davvero davvero carino, tappetto rosso e qua ci sarà il negozio, che faremo in video, questo lo voglio fare insieme a voi, quindi ho preparato un po' la struttura, ma si finirà di fare appunto in video, quindi questo qua sarà il negozio, dopodiché qui non ho minimamente fatto nulla perché devo finire di distruggere tutto, ma sto aspettando di finire il sistema di meloni che ci avete spiegato perché non crescevano, quindi grazie mille nei commenti Uno sì, uno no, infatti ora sta andando molto meglio Siamo sempre degli esperti Poi qua c'è il mio bellissimo maiale, qui un po' di chest buttate giusto per averle da qualche parte E qua ho spostato il cobblestone generator combinato al mio bellissimo mob spawner che funziona davvero bene Funziona, vero? Sono spawnati in tutto questo tempo zero mob Bravo Però un consolino mi ha dato delle iane che sto iniziando a farmare perché si vendono parecchio nei server, quindi almeno quella è una buona notizia Diciamo che il mob spawner è diventato uno iane spawner, ti piace? Non è una bella cosa, doveva servire a tutt'altro, io infatti ho lasciato perdere, non l'ho ancora fatto perché finché non riusciamo a farlo funzionare Avere questa cosa gigante della mia isola non ha troppo senso Sono soddisfatto anche così, va bene? Non mi giudicare Se lo dici tu di aver fatto questo brobrio, ok I consolini si staranno chiedendo subito, ma quindi che cosa faremo oggi? Allora, prima di tutto abbiamo finito il primo tier di challenge e quindi adesso abbiamo le nuove Abbiamo fare un intero set di armatura in pelle Poi abbiamo prendere 32 cactus, 32 di zucchero e 32 di zucche Poi abbiamo creare libri o hack, scenes, di tutto e di più E infine 32 rotten flash Quindi cercheremo di iniziare a fare queste missioni e allo stesso tempo utilizzeremo le epic key che abbiamo farmato in questi giorni per vedere tutto quello che troviamo Sì, ne abbiamo tantissime, è vero perché Io partirei da quello Abbiamo completato anche diverse quest giornaliere Sì Quindi siamo riusciti ad accumulare diverse epic key e quindi siamo prontissime ad aprirle Guardate, ne ho 5 Chissà cosa tu la trovo Allora, slash spawn, partiamo da quello perché sono super curioso Vado a prendere le mie e arrivo Vado a fare? Vai, 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 vai Ok, numero 1 Dai, qualcosa di bello, dai, qualcosa di bello questa volta Facciamo rosicare a Ferenichi Un libro Ok Però è raro, è raro, quindi magari ti può dare un buon potenziamento, vedi? Non mi piace leggere Datemi qualcos'altro Vuole solo soldi Esatto Vuole solo soldi Voglio i diamanti di Ferenichi No, quelli non li avrà mai Ti odio È la cosa più bella che mi sia mai successa nella vita Devi morire Fere, che cosa non avrò mai, scusa? Fere Guarda, te li rubo e li brucio nella lava Neanche a dire che li uso, li distruggo Guarda, non ci provare Continua, guarda Per la tua incolumità continua e fai finta di nulla Ok Allora, vai Il prossimo Vediamo adesso che cosa troviamo Ma sono già soddisfatissimo, se devo essere sincero Un altro libro Eh, quelli si trovano diverse volte Trovate anch'io Possibilmente qualcosa che non sia un libro adesso Va bene? Ce la puoi fare, gioco? Mille di soldi Va bene Oh, non male, dai Ma che non male? Ma fa schifo mille Guarda che con mille si compra un sacco di cose Ne voglio 50 mila al massimo E vabbè, dai Pretendi troppo E poi? Uh, uh, uh Aspetta Ho trovato un libro epico Ah, vabbè Eficiency 2 Ok Non è male, non è male Si può mettere un bel piccone in diamante Potrebbe far comodo Ok, perfetto, perfetto Di quelli che trova Ferinichi non ci interessa nulla Quindi torniamoci da casa Allora, ti devo dire una cosa Perché ti devo far rosicare Tu hai trovato gli otto diamanti Io alla prima chiave che ho messo Ho trovato un'armatura full diamond Tutto diamond Dalla testa ai piedi Tutto Rosica Cosa stai facendo? Ferin Quell'armatura Addirittura ne ho trovate due Perché rimettendo anche la seconda chiave Ho trovato una seconda armatura full diamond Dammi Immediatamente la seconda No, e poi ho trovato anche un libro leggendario Lo vedi? Questo è un libro leggendario E poi una raro Ferin Ti propongo uno scambio Guarda che bella che sono Guarda Ferin Guarda La tua armatura in diamante Per questa Che cos'è? Una mela Oppure facciamo così Ok Dimmi Io non ti do l'armatura in diamante Ok E mi tengo anche il fiore che ti ho rubato 5 minuti Fere Rimetti Allora, vieni qua immediatamente e rimettere Non lo voglio Mi piace L'ho rubato non appena sono andato L'ho pagato 200 Rimettile immediatamente Quello te l'ho rubato Cioè ma pensate ai consolini Che Steph è talmente egoista e cattivo Che non vuole neanche regalare un fiore bianco A Ferin Che un tulipano bianco non me lo vuole regalare Lo capisci da sola che fa schifo Se no alla mia stradina Rimettile immediatamente Allora, magari ci puoi mettere tipo un melone Fere E lo lasci lì Non è mio Ciao Fere Non torni a casa Dammi quel fiore Ok Vieni che se no poi piangi Disgrazie Ti ammazzo Ti spacco la faccia Venditi la tua armatura Mi ha spaccato un altro fiore Questo non era previsto Lo rimetto a posto Ti vendi la tua armatura in diamante E ti compri quanti fiori vuoi Comunque, visto che hai ricoperto il tuo caro maialino di diamante Non ti sei accorto di una cosa Quando ti sei avvicinato a lui? No, perché? Cosa hai di strano? Vai vicino Vai vicino Ti vicino Lo stesso consolino che ti ha regalato le liane Mi ha aiutato Ovviamente mi ha dato tutti i materiali Per dare il nome E mi ha aiutato anche a farlo Al maialino E gli ho detto Chiamalo signor maialino Perché poi ho notato che quando ti allontani Il nome non si vede Quindi volevo vedere la tua faccia Che hai fatto? Mi sono buttato Mi sei buttato Sì ma lui rimane il signor maialino allo stesso Cioè guardalo Ti rendi conto Che bellino che sei Che non è nemmeno la cosa per cambiarlo Guarda come ci stiamo guardando Che bellino Non lo uccidere Spacco la faccia Tanto tu non puoi piccarmi Che bellino Girati Guarda che bellino Siamo amici per la pelle Che bello Che bello Ti odio Io ho una sorpresa per te in realtà Eh ma io te ne ho già fatte tante Quindi Fa meno una bella dai Ho una controsorpresa Ok È l'episodio delle sorprese Sì Ci siamo preparati al meglio per sfidarci Sinceramente non avevo idea Dei tuoi piani Speravo di essere l'unico Che ti avrebbe colto alla sprovvista No questa volta ti ho fregato E invece mi hai fregato Allora un attimino Che mi faccio un po' di recinti Perché ne ho troppi pochi Quindi hai già un indizio Sare che fai lì Ho deciso che rimarrò per sempre Con il signor maialino Ti rimango qui Esci fuori Ciao bellissima Adesso non sai neanche come uscire Porca miseria Infatti il mio piano era quello Rimanere qua con il signor maialino Guarda il signor maialino è un'armatura in diamante Se vuoi ti do anche l'altra Che tanto Steph non la vuole Così ti potrai difendere da solo per sempre Da questo cattivone Che bellina Oh mio dio Venite qua No 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 Vieni Vieni Bravissima No Ti prego Ti prego Allora Allora devi smetterla immediatamente I diamanti ti si ritorcono contro Devi smetterla immediatamente Allora se ti butti giù Ti giuro Che non Guarda Ti ammazzo anche nell'aldilà Torna dentro Fai riuscita anche l'altra Mi serve una mano Perché vogliono stare con Ferricchi La regina degli animali Questa è normale come pecora Ed è interessata al grano L'altro non gliene frega nulla del mio grano Sapeli che sta fissando Oh si sta guardando col maialino È impazzita Si stanno guardando faccia a faccia Attraverso i diamanti Non ne posso più Vieni qua Spera Me l'hanno venduta difettosa Eh sì poverina Non è giusto Torna dentro È un po' È speciale Allora Aspetta 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 Dai vieni Vai dentro Vai Non picchiarla che la uccidi Vai 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 Chiudi Ok Allora qui ci sarà il suo bellissimo negozietto Esatto Giusto Allora non so se va bene questo tipo di costruzione Però boh Quando poi faccio il negozio vedo Magari lo adatto Ok Ovviamente Da qui poi si va nella vera e propria isoletta Con tutte le cose Ok Allora no vieni Ma quanto hai cercato scusa Tantissimo Ma No adesso ti spiego Vieni Girati da questa parte Ok Allora questo è un pollo che mi è spawnato random nell'isola Ok Io sono entrato un giorno e mi sono Non provare a picchiarlo E mi sono trovata questo adorabile polletto E l'ho subito chiuso Non so se me l'ha lasciato il consolino di cui parlavamo Però sono felice e l'ho messo là Poi vabbè questo ovviamente Ok Ok Qua tutte le ceste dove raccolgo le cose Qua sotto grano Meloni che finalmente ho sistemato I cactus E sopra ho fatto la farm di alberi La vuoi vedere? Sì Sto già salendo cara È una foresta Oh che bellino È una foresta gigante Però almeno così ho sempre legna a disposizione Non ci devo più pensare Salgo qua E ne ho all'infinito Davvero davvero bellino Grazie Sì per ora sei decisamente più brava di me Anche se ci tengo a precisare che Uno Mi ha copiato le foglie così Perché lei neanche ci aveva pensato Ma solo queste Due Ed è la seconda cosa che ho copiato Le luci messe così sotto il pavimento Perché sono bellissime E ci stanno super bene Però nel negozio le ho messo a modi lampade sulle librerie E questo tu non l'hai fatto Ma quella era più semplice da pensare Ok questo tu non l'hai fatto E poi guarda Quando passi qua hai anche la vista delle stelle Cioè cosa vuoi di più È una volta meglio del tuo Perché uno quando sta andando a fare shopping Si alza la testa e guarda le stelle Magari guardi e dici Oh che belle stelle Mi è venuta voglia di comprare Quindi comprano A me è venuta voglia di tornare a casa Arrivederci Allora voglio iniziare a fare quello che infatti volevo fare Quindi praticamente al pieno terra Metterò dei recinti Ognuno per i vari animali Quindi un recinto di mucche Un recinto di pecore Un recinto di maialini Un recinto di polli Al primo piano farò le varie farm Quindi anguri eccetera 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 Al secondo piano invece gli alberi Quindi sto iniziando a creare la piattaforma per il primo piano Dopodiché ci sarà il secondo E basta Ok Qua praticamente mettiamo delle scale in verticale Si salirà E qui praticamente dal negozietto vorrò fare in lana di un colore diverso da quello rosso Tutta la stradina che porta fino a queste scale Che appunto ti portano al piani successivi In modo tale che sia come se tutti i passaggi per le varie zone Invece alla destra ci sarà la lana di un altro colore Che ti porterà appunto al mob spawn E al cobblestone generator Che diventerà automatico prima o poi Sì no no Quando avremo il coraggio di farlo Assolutamente lo dobbiamo fare Perché fa troppo troppo comodo Sto usando la legna perché ne abbiamo farmato davvero tanta tra un episodio e l'altro Quindi ci possiamo permettere di fare le cose in legna Sì io voglio Mi ha rotto le scatole Se devo essere sincero No secondo me è bellino alternare Un po' in cobblestone Un po' in legna Per non avere tutto uguale Esatto Allora guardate cosa stiamo facendo Praticamente doppie scale Se ci fermiamo qui Si va al primo piano Se invece continuiamo a salire Si va al secondo piano Che appunto sta facendo frenichi Qua ci saranno appunto gli alberi Lo stai facendo uguale identico di grandezza uguale all'altro Vero? Sì Non mi hai detto nulla Quindi l'ho fatto uguale Invece guardate dall'alto Qua sto facendo Ne sono usciti solo tre Perché altrimenti non c'era abbastanza spazio Però sono belli giganti E fanno un bel effetto Quindi purtroppo diciamo Che non ci sarà tutto 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 piantato Ma secondo me però va bene anche così Quindi finiamo di sistemare qua Perché avevo finito la terra Pla 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 Ovviamente andrà messa l'acqua Quindi poi pensiamo a fare anche quello E la farm qui è fatta Adesso poi la sistemiamo un attimino Poi devo vedere dove fare la canna da zucchero E anche Quella manca anche a me E anche il cactus Infatti sto pensando che nel caso potrei fare un altro piano verso l'alto Perché se vedete dall'alto Bella idea Abbiamo un sacco di spazio Invece qua siamo strettissimi Cioè guardate non c'è spazio per nulla Quindi non è che abbiamo grandi scelte purtroppo Mi è venuta l'idea di farmi il laghetto Dove io ho la piantagione di alberi Ok Mi faccio il laghetto Così ci metto la canna da zucchero E allo stesso tempo pesco Perché abbiamo anche la missione di pescare tot pesci Quindi carina come idea Mi hai dato questa idea Io stavo pensando invece Perché Steph è un po' più bravo di te nel pensare Non è vero Sì cara Praticamente il prossimo piano sarà un oasi Quindi al centro il laghetto con le canne e appunto pescherò È esagerato Intorno Ma qui devi far male Il deserto con le cose Con i cactus Perché il cactus? Perché l'oasi ti pungi Allora l'oasi è appunto un posto meraviglioso in mezzo al deserto Quindi intorno i cactus con il deserto Ok ok Al centro il laghetto con le canne da zucchero e ci pesco Un po' troppo complicato ma vabbè Bellissimo Scrivete nei commenti Steph sei un genio Grazie Non lo scrivete Non so se Se poi esce bene Spandersi solo in alto Voglio vedere un po' come esce la tua e vedremo Ok farò da esperimento Così nel caso Mi avrei copiato un'altra cosa No Innanzitutto la farm di alberi l'ho fatta io E qui ovviamente seminerò tutto Allora qua lascio un po' di spazietto Perché dai ci sta secondo me è bellino così Adesso poi verrò a piantare tutto quello che ho E devo giusto ricordarmi che si scende da questa scaletta qua Ok ho liberato tutto Quindi prossimo episodio faccio tutti i recintini qui E li sistemo e li rendo una cosa carinissima E gli animali li comprerò nel prossimo episodio Così appunto li vedrete mettere eccetera 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 A parte appunto le pecore che ho già Quindi poi primo piano va seminato tutto ma è tutto pronto Va messo giusto l'acqua e seminato tutto Adesso inizio anche a mettere questa fonte d'acqua Visto che ci siamo Opla Mamma mia con t'acqua dovrò mettere Beh ragazzi riusci così se ci lasciateci un like E se è la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi di altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao